Sta tocchiando qualcosa per i saldi? Certo. Da quanto tempo è che sta guardando quelle scarpe? Un mezz'oretta. Quanto ha risparmiato? Beh, 30%. Insomma non è male. No, no, infatti. Vale la pena aspettare i saldi. Sì, sì, sì. Se uno sa cercare, sì, si trova. Con i bambini è leggermente un problema, perché sono molto meno vogliosi di concentrarsi sui saldi. Però le caramelle della Befana vanno benissimo. È in saldo? Io? No, non so se lei è in saldo. No, però sono cose interessantissime. È in saldo l'aglio oggi? Sì, sì. Meno quanto in proporzione? Meno 20%. A caccia di saldi? No, assolutamente. Però la borsa ce l'ha già piena? Sì, perché io compro cose tre volte ogni 14 anni. Come stanno andando i saldi, visto dalla parte di chi vende? Benissimo. È stato lasciato fuori dalla moglie? Esatto. Tanto dopo si paga comunque, indipendentemente dal numero di capi. C'è chi dice che il saldo è donna. Esatto, bravo. Cosa ha trovato? Ho trovato dei regalini che devo fare. Mentre la carta di credito è uomo. Esatto. Siamo a Treviso in gita noi. Ah, quindi da Udine, mi pare. Sì. Ma a Udine non ci sono i saldi? Certo. Allora venite a Treviso e non andate in saldi. Andremo, se abbiamo tempo andremo. Non siamo in giro per saldi in realtà. Ma siete gli unici che non siete in giro per saldi, qui che stanno comprando tutti. Eh, va bene. Come mai? Così, perché non ci interessa. Tantissima gente questo sabato iniziano bene i saldi. Diciamo che inizia sempre in maniera progressiva. La gente seleziona quello che vuole, l'ha visto i giorni prima e basta. Frequenta molto il centro, ecco quello che è importante. Salve, ma il brulè è in saldo? Eh, no, in questo momento no.